Un grande saluto e un augurio di buon divertimento da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Oggi non ci sono in palio i tre punti, non c'è in palio neanche un passaggio del turno, le due squadre giocano per puro spirito agonistico. Spesso è quando c'è questa voglia di vincere che si assiste alle partite migliori. Le due squadre passano dalle parole ai fatti, il campo darà il suo verdetto. Mugnes. Manchev. Riesce a seminarlo, ha tentato un brindling di troppo. La palla sarà rimessa dal fondo. Calazzi. Bianchulovski. Prova ad andare Ronaldo. Pirlo. Deve solo indovinare il passaggio giusto. Fuori di pochi centimetri. Peccato, era un'occasione veramente pericolosa. Guaire. Guaire. Cerca spazi. Ottimo pallone. Controllo di Ronaldo. Caccao. Gattuso. Un vero peccato, palla alta davvero di poco. Ronaldo. Pegna. Perde il pallone. Passa la difesa e solo. Conclusione. Vediamo se riesce a concludere. Al momento del tiro gli è mancato l'equilibrio necessario per indirizzare bene la palla. Non era così facile come sembrava Fabio. Il portiere rimette la palla dal fondo. Ottimo colpo di testa. Gattuso. Sta cercando di conquistare spazio. Cacca. Che grande parata. L'estremo riflessore ha deviato con la punta delle dita. E sarà a calcio d'angolo. Vediamo se hanno provato qualche sorpresa. E l'angolo finisce direttamente tra le braccia del portiere. Spazia via il pallone. Ha impattato ottimamente il pallone. Sta per chiudersi il primo tempo finora al rating violante. Palla persa. Bianchulowski. Sottrae la palla all'avversario. Palla al piede cacca. Bel dribbling. Grande intervento. Palla rimessa in gioco dal portiere. Sembrano stregate oggi le porte. Altrimenti non capisco come mai siano stati segnati così pochi gol. Il primo tempo ha già dato il suo verdetto. Ma nessuno può ancora pronosticare il risultato finale. E interviene bene il difensore. Intervento in scivolato giudicato regolare dal direttore di gara. Oddo. Cacca. Cerca la porta. Ci prova. Guaire. Zedorf. Pirlo. Accompagni liberi su entrambe le fasce. Che riflessi. È arrivato sulla palla. È la deviata di quel tanto che basta. Sembrava un gol già fatto. Invece il portiere si è superato. Oddo. Cerca spazio per il cross. Ma cosa deciderà di fare? Scocca il tiro. Palla dritta sul portiere. Grande facilità. Non corre pericoli. Manchev. È riuscito a recuperare la palla. Adesso può trasformare l'azione in offensiva. Bianculoschi. Nesta. Oddo. Oddo. Nesta. Pirlo. Cerca uno spazio. Kakà. La corsa a perdifiato per decine di metri. Magia del portiere. Blocca il pallone. Ha indovinato la traiettoria del pallone ed è riuscito a parare. Sbaglia. Rilancio. Regala la palla agli avversari. Hanno molte opzioni per concludere l'azione. Zedorf. Miracolo. Che riflessi. Dove è arrivato? I portieri vogliono finire la partita senza subire gol, Fabio. Calcio d'angolo. È una grande occasione per loro. Manchev. Grande ingenuità in zona di passiva. Riescono ad attaccare tutti insieme. E' attuso. L'azione sembra promettere bene. Deve concludere. Prova! Prova! I difensori salgono per il calcio d'angolo. Guaire non riesce a proseguire l'azione sulla fascia. Chissà come decide di comportarsi. parla con la punta delle dita. Un calcio d'angolo che dovranno cercare di sfruttare nel migliore dei modi. Iankulovski. Iankulovski. E' una fase molto delicata dell'incontro. L'attaccante può arrivarci. Zedorf. Zedorf. Il portiere la tocca ma non riesce a tenerla. La posizione era ottima. Doveva calciare meglio da lì. E' stato assegnato un corner. La difesa dovrà tenere gli occhi aperti. Oddo. Un attacco ben coordinato. Gilardino. Un gran tentativo. Prividi per i tifosi. Il pallone però è uscito. E la partita finisce a reti inviolate. 0-0 il risultato finale. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol. 1-0-0 giusto.